Una gigantesca struttura isolata nelle colline del centro Italia. Si tratta di un'ex villa nobiliare trasformata in sanatorio per volontà di una contessa del casato proprietario della struttura che volle donarlo alla città per un utilizzo comunitario. Nel corso degli anni successivi il sanatorio crebbe sempre più di importanza diventando un ospedale a tutti gli effetti specializzato in pneumologia. E' stato abbandonato rispiegabilmente nel 1988 ed oggi oltre ad essere una struttura particolarmente inquietante ospita di tutto e di più. Buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.